Omissioni, sottovalutazioni e scelte sbagliate. Tutto ciò portò all'ascesa di Theodore McCarrick, potentissimo cardinale arcivescovo di Washington, oggi novantenne, nei primi anni 2000. E' quanto emerge dal cosiddetto rapporto McCarrick, pubblicato questo martedì dal Vaticano, e nel quale si smentisce il fatto che la Santa Sede, ai tempi di Giovanni Paolo II, sapesse e avesse taciuto della condotta sessuale impropria dell'uomo. Sulla testa del cardinale, al quale Papa Francesco ha tolto la porpora, dimettendolo dallo stato clericale, pendevano accuse pesantissime. Avrebbe abusato per anni di seminaristi e giovani. Dopo anni di indiscrezioni in merito, scoperchiare il vaso di Pandora era stato nel 2018 l'ex nunzio apostolico a Washington, Carlo Maria Viganò, che aveva chiesto pubblicamente la testa dell'attuale pontefice, secondo lui, re o di sapere della condotta di McCarrick. Ma nelle 450 pagine del dossier, basate su 90 interviste e sulla consultazione di archivi, viene sottolineato come Bergoglio, non appena ricevute le prime prove dei ripetuti abusi del prelato su minori, abbia preso provvedimenti.